...dietro le quinte del matrimonio stiamo aspettando Silvio Berlusconi e arriverà o no? Arriverà, arriverà, arriverà. Lello ha voluto invitare Berlusconi, al momento arriverà, non arriverà, non arriverà. Abbiamo il fratello, applauso! Io ero testimone anche del matrimonio in comune qualche tempo fa, però l'emozione oggi è più grande perché con me ci sono anche i miei genitori che andiamo a dare un saluto anche ai miei genitori e tra l'altro il compleanno anche della mia mamma che andiamo a far vedere gli amici di Rube. Romano, io ero convinto che Lello già da tempo, gliel'avevo detto a suo tempo, lo voglio ribadire, e che avrebbe nel corso della vita incontrato la persona giusta e vive. Poi le presento a papà e la mamma, dopo, dopo. ero convinto che Lello, nel corso degli anni, avrebbe incontrato la persona giusta ed è qua. E' però l'emozione più grande perché, come ho detto, è il compleanno anche di mia mamma che fa 79 anni, vero? Io affianco a me e quindi, papà, papà, papà e la mamma, mamma di me. Molto piacere, ci vediamo bene. Un commento a caldo per gli amici di YouTube, un commento a caldo, c'è emozione? Sì, c'è molta, molta emozione per l'amico Lello. Ci mettiamo d'accordo, ci mettiamo d'accordo, è un commento speciale. Visto che è un commento speciale, hanno chiesto che sia un documento speciale di preghiera. C'è un commento speciale.